Doveva essere supergiù la metà di gennaio quando cominciai a preoccuparmi per lei e consultai Octavia Wilberforce. Octavia era una donna straordinaria, la sua famiglia era strettamente legata a quella di Virginia. Venerdì 21 marzo, Octavia venne a prendere il tè da noi e le dissi che temevo che Virginia fosse in serio pericolo. Lunedì 24 marzo stava leggermente meglio ma due giorni dopo capì che la situazione era molto grave. Virginia era sprofondata in una buia depressione, in pensieri che torbinavano nella mente senza che potesse controllarli ed era terrorizzata dalla follea. Sapevamo che in qualsiasi momento poteva tentare di uccidersi. L'unica sua possibilità era di arrendersi, di riconoscersi malata, il che non voleva. Octavia veniva a trovarci circa una volta alla settimana, portando latte e panna. Per quanto ne sapeva Virginia, si trattava di semplici visite amichevoli, ma avevo spiegato Octavia la gravità delle sue condizioni e dal nostro punto di vista le sue visite erano anche professionali. Mercoledì 26 marzo mi convinsi che le condizioni mentali di Virginia erano più grave di quanto loro fossero mai state. Venerdì 28 marzo ero in giardino e pensavo che Virginia fosse in casa, ma quando a luna entrai per pranzare lei non c'era. Quando non riuscii a trovarla da nessuna parte, né in casa né in giardino, seppi con certezza che era stata al fiume. Corsi all'Ose attraverso i campi e trovai quasi subito il suo bastone da passeggio per terra sull'argine. Per un po' continuai a cercarla, poi tornai a casa e informai la polizia. Tre settimane dopo la ritrovarono. Alcuni ragazzi videro galleggiare il suo corpo nei fiumi e il 18-19 aprile ebbe luogo l'orribile procedura dell'identificazione e dell'inchiesta nell'obitorio di New Haven. Virginia fu cremata a Brankton lunedì 21 aprile. Ci andai da solo. Una volta avevo detto che la musica più adatta a una cremazione era la cavatina del quartetto in sì maggiore, opera 130 di Beethoven. C'è un momento in cui per qualche battuta la musica di incredibile bellezza sembrava esitare con un lieve movimento palpitante in avanti. Se questo passaggio viene suonato mentre le porte del crematorio si aprono e la barra vi scivola dentro lentamente, può sembrare che sia gentilmente sospingendo il defunto nell'eternità dell'oblio. Virginia era d'accordo con me. Seppellì le ceneri di Virginia ai piedi dell'olmo che si innalza al margine del grande prato nel giardino, chiamato il croft che domina i campi della marcita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.